www.castelloincantato.it La notizia Corre in rete Da dove venite voi altri? Io da vicino Milano, Vigevano, provincia di Pavia Siete venuti per il venerdì santo? Sono nativa di Mussomeli, sono 48 anni che non venivo a vedere la Pasqua e quest'anno ci siamo riusciti stiamo partecipando a tutte le funzioni dal Giovedì santo fino a domenica la riuscirezione Siete, ecco, avete partecipato alla processione della dolorata Sì, tutto, tutto Siete venuti dalla Madrice in questo momento? Sì, sì Ecco, tanta gente in processione Moltissima, tantissima, moltissima, molta, molta gente Che emozioni avete provato? È una emozione grandissima perché mi ricorda la mia infanzia Io ho lasciato Mussomeli all'età di 11 anni Io ho questo ricordo che tutti gli anni mi portavo dietro finché quest'anno siamo riusciti a coronare il desiderio di 48 anni Le vostre emozioni, quali sono? Sono moltissime, prima perché è una cosa molto emozionante che in tutta Italia io ho mai visto una cosa così bella, bella, bella e poi perché comunque ricordiamo la nostra infanzia E in questo momento, ecco, noi vediamo, vediamo la processione che sta snodando attraverso la via Antrea che è la via Antrea-Ciaramonte Ecco, le forze dell'ordine precedono qui il corteo in questa via Antrea-Ciaramonte Ecco, e noi vediamo, vediamo, ecco, sfilare, ecco, le donne vestite in nero Oh Maria Pietro, savergine Tu che cerchi il figlio Martile Nella strada che percorri tu Va che io ti segua per trovare il tuo Gesù Venerdì santo a Mussomeli Mancina C'è una faccia A tutti i tuoi amici A tutti i tuoi amici E poi ho chiuso a dare, le donne vestite in nero La cosa è la mia vita E poi ho chiuso a dare, le donne vestite in nero E poi ho chiuso a dare, le donne vestite in nero Pagno di te, le donne vestite in nero Ma tu perdona a me E la pietà di me Le consola a me Regina del dolor Mi prego mostra a me Gesù il Signore Il mio sogno Miriam, svegliati, cammina Salute libero Ma tu perdona a me E la pietà di me E la pietà di me Se avrei bisogno che si sono con pericoltura Si è il Signore Il mio sogno Ti prego mostra a me Gesù il Signore Il mio sogno Nell'ora tragica Il mio sogno Il mio sogno Il mio sogno Grazie. 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 Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi. www.castelloincantato.it La notizia Corre in rete Corre in rete